Carissime e carissimi, voglio raccontarvi in due minuti della guida ai finanziamenti europei per i comuni, le unioni dei comuni, le province e le città metropolitane, che ho preparato e che potete trovare da scaricare in versione digitale sul mio sito www.damianozofoli.com oppure potete richiedere in versione cartacea scrivendomi all'indirizzo mail damiano.zofoli.ep.eu In questo anno da parlamentare europeo la domanda in assoluto più frequente che mi sono sentito fare ha riguardato l'esistenza e le modalità di utilizzo dei fondi europei. C'è molta confusione, disinformazione, sembra che ci siano tanti soldi per qualsiasi cosa, si sente dire che noi italiani non siamo capaci di usarli tutti e di usarli bene, si sente dire che il comune accanto al nostro ne ha fatto uso. Si alimenta insomma una sorta di racconto un po' mitico su un tema che è in realtà molto importante e concreto. Due numeri per fare chiarezza, la programmazione dei fondi in Europa è settennale e per gli anni 2014-2020 parliamo di circa 1000 miliardi di euro. Per quel che riguarda invece l'Italia, i dati ci dicono che per ogni euro che versiamo alle casse dell'Europa solo 60 centesimi tornano in Italia sotto forma di finanziamenti. Questa guida ha due caratteristiche, è di semplice consultazione ed è rivolta alle necessità specifiche e concrete degli enti locali. All'inizio della guida potete trovare una mappa dove per ogni settore comunale è specificato in quali programmi europei potete cercare le risorse. Per fare un esempio, se parliamo del tema dell'ambiente, le risorse sono nel programma LIFE. Nella parte finale ci sono invece dei consigli pratici sulle regole della progettazione europea. L'Europa non è un bancomat, bisogna conoscere gli obiettivi della strategia Europa 2020, sui quali sono orientati i programmi di finanziamento. Penso alla nuova occupazione, alla ricerca e sviluppo, all'innovazione, al tema dei cambiamenti climatici, della sostenibilità energetica, tutta la formazione, l'istruzione, la lotta alle marginalità, alla povertà. Ci sono però delle condizioni di base, occorre fare rete, occorre costruire dei partenariati. La forma del progetto è molto importante e poiché l'Europa non finanzia quasi mai il 100% del costo complessivo, bisogna sempre partire dai bisogni e i problemi reali dei cittadini, del proprio comune, del proprio territorio, del proprio ente. In questa materia non vale l'improvvisazione. Ripeto, per chi è interessato e può scaricare la versione digitale della guida dal mio sito internet, oppure richiederla in versione cartacea scrivendomi all'indirizzo mail damiano.sofoli.chiocciala.ep.europa.eu